Ordinano l'esercito, ora scennendo di Marsala verso le campagne palemmatane, signore me, si scontano a calata fine 1.500 carepaettine, la carepaettina è fissotti, forza a faccina un po' il po' del regolamento di armato, una carneficina, signore me, poture del battaglia, Nino Pizio, capitano generale di Garepaetti, vota con il panno generale, e ci rissimessa, ci stanno decimando, dobbiamo passare in ritirata, Garepaetti è stata subacovazzo per campaneare il disperino, o si fa l'Italia o si muore, non appena vissano il Garepaetti a cavallo spiegato, ma correva a mente altre campagne, tutte le suiccate, metteranno a picchiare forza, e metteranno a stare forza le parianette e fucilate, e si scopero tutto l'esercito Borboni. Ora dopo questa battaglia, campagne e campagne, si è avvicinando questo paletto, è arrivato un periferia, signore me, da, dopo un negattino di Ciacutti, c'era la milizia che l'aspettava, la milizia palemmatane, i picciosti, e allora, Garepaetti, si stanno manifestando qua durante la manifestazione, il loro dissenso, non appena c'è un becco dall'avanti, lo informò della disposizione militare di tutta la palestra, dicendo che su Pesco e Pesco e Pesco ponte, c'erano barricati fortemente un avanguardo portone, armato di tutto pugno, barricati, fuccarrette, ravesciate, ponte tutta su per la parte cantata, le campagne manco di Dio ricevano i poittoni. Allora, Garepaetti, se bene, fatemi vedere chi sono queste picciosti. Dov'è che io finirò a mentirizzine? E che consiste? E se me in sottestate le rinunie, garanti e mandalini, mi scerano a poco le picciosti palemmatane. La storia storia, urlata, senza ambiciativa di Dio ricevano i picciosti palemmatane. Come potete assaltare un esercito regolare armato in Rattossi? Se vincevano un vecchio e c'erassi, è vero, generale, però c'hanno una cosa per questi picciosti palemmatane, voi state le rosse da barrecate, restate le tue ponte, i tacchiamo per sennere questo. E allora, Garepaetti, subito, resti il comando a Ninovizio, si mette su per il suo cavallo e subito sguerra l'attacco verso il tuo ponte. Non appena arrivano, l'undiere se cugliere, le maledizze, Borbone, eccano la scarica dei fucili e abbassano mento un pascaglione. I picciosti sattavano le aizine a chi aizino, l'hanno fucettato come che arrivano sotta, maledizze, e poi c'è sempre sotta, che vanno a fare la mia montante, sotta, piccolate, le non pizzo, picchia da banniera, ecco un saluto fa, da barrecata. Aspetta, Enrico Carioli, tranquillini, cazze, portate, a megafono, a tutta forza, a 150 anni, dalla città, non erano fortemente barrecati. I palermo cazzo e cazzo l'accelerano il bagnino, Matarazzo, Fonale, a me stesso per le poipone, e mentre capolazzo sende, a voi dicendo, via capolazzo sè vanno e sanno le peranno, viva la libertà, viva la libertà in San San Josea, viva! Ora signore mei, io brevemente vi contavo questa battaglia del Ponte Ammeraglio e stasera grazie al dottore Daverio vi farà aprire il toccare di mano da un battaglia da 150 anni e invece sopra questo Ponte